L'Arezzo tornerà in campo martedì 25 settembre. Il derby tra Maranto e Nerazzurri dopo l'ok della Lega Pro su richiesta delle due società verrà infatti disputato alle 20.45 all'Arena Garibaldi. Alla fine la richiesta della città è stata infatti a contarsi la richiesta domenica e resteranno a riposo. Distribili a Maranto e Lega Pro su di affrontare il funnale La Provercelli. In Nerazzurri il Siena invece fuori casa, da cui era nata l'idea di anticipare il derby in programma originariamente per mercoledì 26 in notturna. Le partite Arezzo-Provercelli e Siena-Pisa sono state rinviate fino a una nuova comunicazione fino a quando non saranno sciolti i nodi sul format della Serie B. Un anticipo, quello di martedì 25 settembre, che consentirà così ad entrambe le squadre di aver maggior tempo a disposizione per preparare le rispettive sfide del 30 settembre. L'Arezzo in quella data esordirà in casa alle 14.30 contro l'Arzachena. La società Maranto infine ha chiesto di poter giocare il prossimo martedì con il lutto al braccio per ricordare due dipendenti dell'archivio di Stato morti a causa del gas del sistema antincendio. Una tragedia ricordata anche in occasione della presentazione all'Arena Eden della squadra Maranto. Ti faccio le condoglianze alle famiglie delle due vittime perché nel 2018 una cosa del genere è una cosa assurda a parere mio.